Io credo che siamo in un momento particolare, soprattutto nelle periferie sociali del mezzogiorno. La situazione è piuttosto drammatica perché c'è un disinvestimento nelle politiche sociali. Quindi anche le fondazioni, tutti i soggetti, non può prendere atto di questo. Certo che è anche un'occasione per rilanciare, ripensare meglio, semplificare, razionalizzare. Però stando attenti a non far finta che la carenza di risorse pubbliche possa in qualche modo essere surrogata da sporadici finanziamenti di fondazioni. Poi ho messo l'accento su un'altra cosa. Ci sono in tutte queste periferie, praticamente in tutte, sociali, nei centri storici, nelle periferie geografiche, parrocchie, associazioni cooperative, che da oltre 10-15 anni fanno iniziative spesso benemerite, talvolta da razionalizzare. Io ritengo che per tutti i soggetti che fanno politiche di fundraising e di fondazioni di erogazione, è il caso di puntare più a razionalizzare, a riqualificare quello che già c'è e si fa, anziché puntare a stimolare, a fare cose nuove, presunte nuove. Oggi non c'è bisogno di particolare innovazione di prodotto. Oggi c'è bisogno di innovazione di processo, ossia come razionalizzare dei servizi di base, socioeducativi per i bambini, gli adolescenti, i ragazzi in difficoltà delle periferie sociali. Rispetto a questo io sulla partecipazione ritengo una cosa fondamentale. Bisogna mettere veramente al centro, in termini di abilitazione, le persone. Il ragazzo non deve essere un utente di un servizio che gioca, fa delle cose e poi il progetto inizia e finisce e tutto è lì. Il ragazzo, l'adolescente, talvolta la mamma del ragazzo, devono essere soggetti che fanno patentemente dei percorsi di attivazione della propria residenza, delle proprie opportunità e la partecipazione funziona, si può dire che ha funzionato quando quello che si lascia dopo è veramente, patentemente diverso da quello che era prima. Puntare tutto solo sull'apprendimento interiore io credo che sia un po' rischioso perché non lascia veramente frutti. si deve, talvolta come dicono alcuni studiosi, la partecipazione forse deve generare anche conflitto, ma l'importante è che sia veramente nell'agito delle persone, rispetto agli interessi delle persone, le persone siano coprotagonisti. Quando sono solo utenti di servizi le cose non vanno bene, i soldi non vengono spesi bene, secondo il mio modesto parere. Grazie. Grazie.